Che bello scrivere storie, poi uno sceneggiatore puro le lascia andare, le affida al regista. Io cominciavo a fare fatica, ho cominciato a scrivere sceneggiature insieme a Giulia Calenda e a Furio Andreotti. Ho fatto questo mio esordio per raccontare una storia che mi sta a cuore. Siamo vicini alla sceneste perfezione, scena chiusa, ma è straordinario tutto questo. Diciamo che ho aspettato di essere pronta e preparata per farlo bene, comunque per farlo al meglio. È stupenda! E le è piaciuta tanto. Valerio! Sono decenni che fa questo lavoro, che lo fa sempre con maggiore consapevolezza. La voglia di esprimersi in un altro modo, di essere più responsabili del film a cui si partecipa, credo che sia un processo naturale per un certo tipo di persone che fanno questo mestiere. Ne famo un'altra uguale uguale, perché era bellissima! Vuoi dire migliore? Vuoi migliore? Vabbè, sì. Oltre a far uscire il lavoro al meglio, riesce a mettere a proprio agio tutti sul set ed è una cosa molto bella. Come spesso gli attori che arrivano dalla regia, è molto solidale e molto sensibile al problema dell'attore, quindi è sempre molto rispettosa dei tempi, delle modalità. Dà molta sicurezza, lascia però gli attori anche liberi di proporre, ascolta, accoglie. Buono tutto questo! È bello essere diretta da lei.